L'organizzazione di produttori ortofrutticoli Terraorti sarà presente con un'area di degustazione e commercializzazione all'interno del più grande mercato contadino coperto del Sud Italia che giovedì prossimo 18 giugno aprirà al pubblico al Parco San Paolo di Fuorigrotta a Napoli. Il progetto, promosso da Coldiretti Napoli e Campagna Amica, si esprime su un'area di circa 1.000 m2 coperti e 300 m2 scoperti in via Beniamino Giudetti 72, dove i consumatori potranno trovare il meglio delle produzioni agroalimentari della Campania. Saranno 27 le postazioni alimentari presenti in cui si potrà acquistare farina, pane, prodotti da forno e dolci, macelleria, pesce fresco, mozzarella e ricotta di bufala campana, salumi di bufala, frutti, ortaggi, verdura di stagione, pollo, uova, latte fresco, conserve di pomodori, pasta con grano 100% italiano, salumi, legumi, formaggi freschi e stagionati. Insomma, una variegata quantità di prodotti. Terraorti sarà presente con una ricca selezione dei suoi prodotti a chilometro zero e diventerà punto di riferimento di tutta una serie di incontri dedicati alla valorizzazione delle tipicità locali, con la presenza di importanti chef e gastronomi. Le iniziative saranno organizzate nell'ottica di far conoscere e promuovere i prodotti selezionati quale è migliore espressione della biodiversità campana.